Gli studenti attaccano la governance dell'azienda regionale per il diritto allo studio di Basilicata all'Ardsu sulla quantità e qualità dei servizi ritenuti altamente insufficienti nonostante un bilancio florido e i numerosi interventi della componente studentesca puntualmente inascoltati. E questa è la denuncia che è arrivata dal gruppo di rappresentanti del Consiglio degli studenti dell'Unibas che, dalla sede del Camin Center nel campus universitario di Macchia Romana Potenza, hanno convocato una conferenza stampa per denunciare le criticità dei servizi ed il mancato ascolto delle loro richieste. Scarsi interventi nelle case dello studentato, dove in alcuni casi non sono presenti le condizioni minime di vivibilità, oltre a una gestione non inclusiva nei rapporti con la dirigenza Ardsu, sono solo alcune delle criticità rilevate dagli studenti. Oggi siamo qui per chiarire il rapporto tra Ardsu e studenti e il fine ultimo, la mission dell'ente, che è quello di dare il diritto allo studio a qualsiasi studente dell'Università degli Studi della Basilicata. Nell'ultimo Consiglio d'amministrazione è stato approvato una variazione di bilancio, un assestamento di bilancio col voto sfavorevole della componente studentesca. Questo assestamento ha visto stralciate tutte le proposte degli studenti, fino anche a quelle già previste nel bilancio di previsione, come il bonus trasporti per cui avevamo previsto 180 mila euro. E tutto ciò è ingiustificato in una situazione, in un bilancio florido, con oltre 2 milioni di euro di avanzo di bilancio. Noi studenti non ci sentiamo per nulla ascoltati, non siamo stati per nulla tenuti in considerazione in questo processo decisionale e riteniamo che gli studenti della Basilicata meritino di più.